Lettura di Uno Stato d'animo, Memorie del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano di Renato Bordone, pubblicato da Firenze University Press per reti medievali, disponibile in download al link in descrizione. Parte seconda, modelli di comportamento urbano nella prima età comunale. Capitolo 1. Il modello cavalleresco. L'attitudine all'uso delle armi da parte della popolazione urbana ha origini antiche e pare connessa con la stessa funzione difensiva che la città esercita grazie ai moegni a che la circondano nei confronti dei suoi abitanti. Fin dall'età tardo antica, infatti, la città è caratterizzata e si identifica con il proprio impianto militare ed è noto il passo dello pseudofredegario nel quale si attribuisce al rea Longobardo Rotari l'iniziativa di radare al suolo le mura delle città liguri affinché, dopo questo gesto, vengano chiamate semplicemente villaggi. Una cura particolare nella manutenzione della cinta urbica è poi manifestata dalle numerose richieste che i singoli vescovi, a nome della cittadinanza, rivolgono ai re nel corso del X secolo, mentre incombe il pericolo di invasioni e di violenze esterne e all'iniziativa degli stessi cittadini è attribuito un diploma del 915, il drastico intervento di demolizione di alcune abitazioni appartenenti al vescovo di Bergamo, onde rinforzare le mura di Pavia, minacciate dagli Ungari. Oltre agli aspetti difensivi, a un inquadramento delle truppe urbane in occasione di campagne militari si farebbe riferimento fin dalla prima metà dell'VIII secolo, nel Versum de Mediolano Civitate, in occasione della spedizione fatta nel 738-39 da Liut Prando contro i Saraceni di Provenza. Un'organizzazione militare interna gestita dai cittadini è fenomeno verificabile per il secolo X e diffuso in tutto il regno. Durante l'assedio di Narni da parte del Marchese di Tuscia ad Alberto, che intende sottomettere a suo volere la città fedele al Papa, secondo la Translatio Juvenalis et Cassii Episcoporum Narnensium Lucam, i Cives rafforzano la città e tutti si raccolsero promettendo di difendersi e unanimi combattevano, probabilmente al comando dei nobilis civitatis, ai quali poco prima era stato fatto riferimento. Verso la fine del X secolo e nel corso del successivo, l'unanimità di partecipazione all'esercito cittadino in alcuni casi comincia a presentare alcune distinzioni al suo interno, specie in ambito lombardo. Nei cronisti milanesi, infatti, accanto alle truppe che combattono in difesa della città in quanto ivi residenti, assumono rilievo sempre maggiore ai milites legati personalmente all'arcivescovo. Se i Cives Bellatores di cui parla l'Andolfo Signore per l'età di Lamberto e i 90 Viris Prudentes milanesi, che muoiono combattendo contro l'esercito di Re Ugo, per la mancanza di un'esplicita caratterizzazione vassallatica, possono far pensare ai militi della città, l'uso quasi tecnico da parte di Landolfo e di Arnolfo del termine miles a proposito della distribuzione dei benefici operata dall'arcivescovo Landolfo ci pone ormai davanti a una reale articolazione, anche sociale, dell'esercito urbano. Da una parte coloro che appartengono alla clientela e in quanto tali sono obbligati alla difesa militare della sede vescovile, sia che provenissero dalla cittadinanza, sia che fossero reclutati nel contado. Dall'altra quei Bellatores non vassalli di tradizione urbana, che l'ambiguità del termine milites non sempre consente di distinguere dai precedenti. In occasione dell'assedio posto dall'arcivescovo Ariberto a Lodi per imporre un vescovo di suo gradimento, Arnolfo presenta come difensore della loro città i cives senza altra indicazione, ricordati in seguito al protrarsi delle ostilità con i milanesi come i laudensi, esigui di numero ma fieri di animo, dalle poche risorse ma pieni di forze. Quando Corrado II si appresta ad assediare Milano, i milanesi si difendono radunando giovani prescelti pratici delle armi e dotti della guerra agili sui cavalli. Affrontano l'esercito imperiale ma dopo l'esito incerto della battaglia gli urbani si ritirano alle proprie case. L'assedio di Milano descritto dall'Andolfo Signore è una pagina classica per verificare il funzionamento dell'organizzazione militare cittadina nella prima metà dell'undicesimo secolo. Le milizie urbane di fronte all'impeto delle truppe imperiali dapprima reagiscono in modo confuso ma in seguito si organizzano secondo precise istruzioni e contrattaccano. È degno di nota il preciso riferimento fatto dal cronista ai magistri belli e alla suddivisione in unità organiche di combattenti perché implica un vero e proprio ordinamento militare che sembra anticipare quello comunale sia dal punto di vista tattico sia da quello organico. Per ciò che concerne l'organizzazione siamo infatti informati che l'esercito cittadino composto da Milites e da Pedites era costituito da legiones formate da un numero imprecisato di reparti minori, le centene. Tatticamente le legioni si alternavano nel combattimento in linea a seconda delle necessità segnalate dalle vedette mentre le centene di cavalieri al di fuori delle mura facevano rapide incursioni di guerriglia contro il grosso degli assedianti. Un forte spirito di disciplina a detta del cronista faceva in modo che le operazioni di difesa e di offesa si svolgessero ordinatamente. L'arcivescovo stesso infine pare essere il comando presso l'arco trionfale presidiato da un reparto di Milites scelti che difendono l'insegna ambrosiana. Appare chiaro che in questo contesto la coppia Milites-Pedites indica tecnicamente cavalleria e fanteria ugualmente impegnate nella difesa della città e accomunate dai medesimi ideali. Nella Milano del secondo quarto dell'undicesimo secolo l'afflusso all'esercito d'altra parte non è limitato ai soli urbani. Arnolfo racconta infatti che verso il 1039 l'arcivescovo prevedendo futuri attacchi alla città ordinasse che convergessero in città tutti gli abitanti della diocesi ambrosiana atti alle armi dal contadino al cavaliere dal povero al ricco per difendere la patria dal nemico con una tale schiera. Subito dopo descrive il carroccio quale signum di identificazione per i dimicaturi che dovevano seguirlo in battaglia. Sulle origini e sulla diffusione del carroccio nelle città italiane si è discusso a lungo ma in questa sede non è privo di interesse rilevare che la sua comparsa viene collocata dal cronista attorno agli anni 40 dell'undicesimo secolo dopo aver parlato del reclutamento urbano ed extraurbano esteso a tutti gli armissi instructi di ogni ceto sociale. Attorno al carroccio infatti come le fonti successive indicheranno concordemente si raccolgono le fanterie quei pedites urbani che in Landolfo Signore sembrano svolgere un ruolo secondario negli avvenimenti bellici dell'assedio del 1037. La comparsa del carroccio contribuisce si direbbe a conferire un centro ideale e individuante a coloro che combattono per difendere la comune patria senza possedere il prestigio di una tradizione militare a cavallo feudale o nobile. Forse non è un caso che subito dopo aver parlato del carroccio Arnolfo introduca le vicende della plebs milanese che si sollevò in armi contro i militi. Una plebs che non è difficile identificare con i pedites in grado di combattere per liberarsi come dice Landolfo da coloro che sono diventati nemici da cittadini che erano. Si tratta al di là del significato e dell'esito dello scontro dell'estensione di costumi militari a una parte della popolazione che solo ora li sta assumendo coscientemente in proprio come valori civili secondo la testimonianza di Landolfo incline a riconoscere la legittimità della rivolta popolare però a cui renda libertate. Nella guida di un miles lanzone nobilis et capitane o saltus contraddice questa interpretazione anzi rappresenta se così si può dire l'avvicinamento degli ideali militari dei civitatis miles alle nuove esigenze della plebeia turba la circolazione di concezioni diverse ma accomunate dalla milizia in ambito urbano fino all'assunzione non più come valore di una parte ma come valore cittadino. Ciò è avvertibile fin dal primo ritratto che di lanzone fornisce Landolfo provvido d'ingegno ammirevole per valore attivissimo in ogni azione di guerra vigile in tutte le angustie preoccupato della vittoria dei nemici pronto piuttosto a morire che a consegnare vilmente ai nemici il popolo. Per ben tre volte nel corso del ventiseesimo capitolo del secondo libro Landolfo ritorna sulle caratteristiche morali di lanzone definendolo uomo di grande ingegno e astuzia d'animo sveglio di cuore pronto in occasione del suo abboccamento con l'imperatore e giudicando il suo agire dopo il ritorno alla missione da quell'uomo discreto previdente e astuto che era. Provvido d'animo all'acre e pronto di cuore astuto in modo particolare dedito con estrema solerzia alle arme lanzone incarna l'eroe cittadino il modello con il quale si identifica la tradizione militare non soltanto aristocratica ma universalmente urbana alla quale si ispirano i juvenes. La gioventù come gruppo destinato alla guerra e istruito a combattere è un concetto che circola diffusamente nelle nostre fonti talvolta senza precise connotazioni sociali. Fin dall'assedio di Milano sono gli electi juvenes fra i milanesi che compiono un raid nell'accampamento imperiale. Fra i giovani cittadini più audaci di entrambi gli ordini Erlenbaldo braccio militare della pataria a ruolo il suo esercito. Il poeta che canta la vittoria pisana nel 1087 piange la morte di Ugo Visconte celebrandolo come capo della città e corona dei giovani. Al grido di guerra Ultreia parte per la crociata al seguito dell'arcivescovo la preelecta Juventus Mediolanensis. I senespisani ricordando le imprese degli avi accendono gli animi dei giovani e come giovane e saggio è indicato uno dei 12 comandanti militari della spedizione alle Baleari durante la quale moriranno fra gli altri un intrepidum juvenem e addirittura un quindicenne che combatte come un adulto. Molti giovani infine compaiono come combattenti nella guerra di Como. Bertramo ucciso da una freccia si dice che era un cittadino valido e un giovane fiero. I giovani aristocratici sono i primi ad imbarcarsi in previsione di una battaglia navale sul lago e soprattutto alle ammunizioni degli anziani obbediscono pronti juvenes pedites equitesque. Da quest'ultimo riferimento in particolare risulta chiaro che il termine juvenis in ambito cittadino a differenza di quanto rilevato dal dubito oltralpe non pare avere il medesimo significato tecnico cavalleresco feudale che connota invece il termine miles ma indica piuttosto il combattente urbano fante o cavaliere addestrato alla guerra. L'uso di un addestramento generale della gioventù urbana alla prestanza fisica e a tollerare le fatiche è poi attestato dalle stesse fonti e contemporaneamente per la Lombardia e per la Toscana e non è secondario rilevare l'importanza che viene a esso attribuita dal momento che si tratta di fonti poetiche, inclini maggiormente a denunciare un atteggiamento mentale nei confronti di ciò che evidenziano piuttosto che un'occasionale testimonianza di costume. Per la Lombardia infatti Mosè del Brolo attesta come nelle piazze di Bergamo i cittadini esercitano i cavalli a correre e a partecipare alle dure guerre, mentre per Pisa analogamente l'autore del Maiorichinus nel Tessere le Lodi di Ugo Visconte ricorda come anche durante la spedizione trattava i cavaliere pisani alla maniera dei romani offrendo premi ai vincitori delle corse di cavalli e dei giochi con le lance. Accanto agli specifici ludi militari entrambi i poeti ricordano poi la resistenza alle fatiche alle privazioni come esercizio paramilitare insegnato a Bergamo fin dall'infanzia e vissuto a Pisa come costume consueto per tutta la vita, un costume che a Como è definito costume degli abis, con piena coscienza di una tradizione urbana di attività militare e di austerità di comportamento rivissuta alla luce di un recupero della classicità. Questo modello tradizionale esaltato dai poeti municipali che tuttavia affonda le sue origini nei reali comportamenti della popolazione urbana, coniugati tra XI e XII secolo all'ideale romano del rigore, sembra subire una trasformazione sotto il duplice influsso esercitato dal prestigio dello stile di vita del ceto imminente e dalla diffusione di un ideale civile classico, l'urbanitas, proprio da quel ceto precocemente assunto. Lo stile di vita del ceto imminente urbano fin dal X secolo si caratterizza con la detenzione e l'ostentazione della ricchezza, in apparente contraddizione con l'austerità cantata dai poeti. Già Raterio individuava con molta chiarezza gli status symbol dei divites dei suoi tempi, sia pure senza riferirsi specificamente a quelli cittadini. Il possesso dei beni fondiari, servi, serve, cavalli, buoi e altro bestiame, la ricerca dell'ossequio, la delectatio con cani da caccia e sparvieri, l'abbondanza di vesti, utensili, frumento, vino e olio, armi, argento, oro e gioielli. Molto più tardi Donnizzone racconta, riferendolo però alla prima metà dell'undicesimo secolo, l'episodio di Alberto, visconte di Mantova, grandemente ricco e abitante della città, che, per guadagnarsi l'amicizia dell'imperatore Corrado, non esita a donargli con larghezza cavalli bai e falconi, inimicandosi così il marchese suo signore. Per Andrea Dastrumi, il clero milanese, è raggiunto a tal punto di decadenza, alla metà dell'undicesimo secolo, che cacciava con cani e falconi, cioè secondo uno stile di vita laico e aristocratico. E ai milanesi, davanti al mondo, Erlenbaldo appariva come un duca per le vesti preziosi e per i cavalli e le armi. Giovanni Gualberto, infine, fiorentino di nascita, deve Kumar Migerius Suis far vendetta dell'omicidio di un suo propincus secondo il codice d'onore dell'aristocrazia. Il ceto eminente della città, che appare possedere ricchezze, vesti preziose e si diletta di cacciare con cani e falchi, svolge soprattutto l'attività militare a cavallo, con o senza legami feudali con il vescovo, coordinando probabilmente le operazioni della fanteria popolare. Il ruolo di comando esercitato e il prestigio sociale fanno di questi combattenti i milites per eccellenza dell'esercito cittadino ai quali si attribuiscono quelle tradizionali prerogative di coraggio, di resistenza e di amor patrio, comuni a tutti gli juvenis che militano per la città. Il modello affascina e allo splendore dello stile di vita aristocratico e alle virtù belliche si aggiunge la bellezza fisica che viene dalla presenza della gioventù, eco forse non lontana di un ideale classico di bello e buono che i contemporanei stanno riscoprendo nel nuovo uso della cultura classica. Così l'eroe pisano morto nel 1087 di cui abbiamo già ricordato l'attributo corona juvenum appare anche il più bello di tutti. Ma è soprattutto all'andolfo signore presso il quale abbiamo già trovato l'immagine idealizzata del combattente urbano con l'anzone che dobbiamo il più compiuto ritratto dell'ideale del miles civitatis per la seconda metà dell'undicesimo secolo. Erlenbaldo. Di grande stirpe di capitani, valoroso guerriero per sua natura, la barba di color pur pureo lunga e giusta le antiche usanze. Piccolo il volto, gli occhi aveva d'aquila, il petto di leone. Era fornito di maravigliose facoltà intellettuali, cauto nell'aringare il popolo, nelle battaglie forte come Cesare. Era di bello aspetto, di cuore elevato, nelle avverse vicende costante. Il corpo aveva gracile ma ben proporzionato in tutte le membra, provvido nei consigli, tollerante nelle fatiche, rotto alla vita delle armi. Più studiavasi di non offendere i doveri della milizia che non sono quelli della natura. Tutti gli elementi attribuiti singolarmente ai personaggi urbani che abbiamo in precedenza incontrati vengono qui quasi compendiati e raccolti in modo che le qualità di Erlenbaldo si possono raggruppare in tre categorie. La prima riguarda le caratteristiche propriamente militari. Egli è miles strenuissimus, secondo un consueto stereotipo che indica il valore bellico. Ardito come un leone, simbolo del coraggio, resistente alle fatiche, come si è visto essere costume dei combattenti bergamaschi e pisani. Sempre vigile, al modo stesso con cui già l'anzone era stato definito in angustis per vigil. Rigidus in bello, infine, ut kaiser, dove il modello classico è, in questo solo caso, espressamente richiamato. La seconda categoria enumera le doti naturali e civili. Animo, cuore, consiglio, secondo il medesimo schema usato per l'anzone. La terza, infine, sviluppa diffusamente un tema che per l'anzone era appena accennato, l'avvenenza fisica. Se infatti l'anzone era genericamente corporis virtutes laudandus, Erlenbaldo appare di volto gentile, di corpo ben fatto, esile e decentissimus. Anche in questo caso l'influenza del modello classico è evidente e significativa. Un tocco personale è poi conferito dal riferimento alla barba quasi purpurea. Particolare pittoresco che esercita in battaglia una funzione intimidatoria, come l'andolfo stesso ricorda in occasione dello scontro finale, quando Erlenbaldo, vestito di una splendida armatura, monta a cavallo stringendo in pugno il vessillo papale, estratta dall'elmo la barba per parere ancora più terribile. Rappresenta il perfetto secoli miles aristocratico, ben attivo in città ma con possessi fondiari e castelli nel contado di famiglia tradizionalmente legata al vescovo da rapporti feudali, esaltato da uno scrittore cittadino che al tempo stesso testimonia dell'esistenza di un modello ideale nella cultura urbana e contribuisce a diffonderlo. In questo processo dinamico di assunzione e di elaborazione culturale, sollecitato dalla vivacità sociale e mediato da una partecipi a rilettura dei classici, si va così sviluppando in ambito cittadino un etos che per le caratteristiche che presenta ci pare di poter essere definito cavalleresco cortese. Fin dal 1907, d'altra parte, Edward Wexler ha prospettato la derivazione dell'ideale cavalleresco cortese dalla cultura scolastica precedente, come una trasposizione laicale di una concezione elaborata e definita dalla tradizione clericale. Meno attenzione è stata forse posta al fatto che in Italia le principali sedi dell'insegnamento scolastico rivolto anche ai laici sono certamente ubicate nelle città e i più immediati fruttori di tale cultura possono di conseguenza considerarsi i ceti eminenti urbani. In città infatti è coltivata come primo frutto laico di una scuola clericale un'eloquenza elegante e lepida, definita latinamente urbana, ma proprio il concetto classico di urbanitas, il cui significato è fatto chiaro dai glossari, viene a esprimere, secondo il Viscardi, alcuni aspetti della cortesia, cioè della mondanità fine, arguta, garbata, cioè della buona educazione per cui gli uomini delle classi elevate sono, per dirla in provenzale, enseignants. E a Milano, a Firenze e a Pisa si incontrano personaggi dell'undicesimo secolo e dei primi del dodicesimo indicati come vir urbanus et facundissimus, vir urbane eloquentie et omnimondo civilis, orator laudabilis et facetus. È stato detto anche che la cultura cortese cavaleresca rappresenta una sintesi nuova e originale dell'urbanitas classica, trasmessa dalla scuola e dall'energia eroica dell'aristocrazia germanica. Pensando a quest'ultima come un retaggio di tradizioni militari dei potentes del territorio. Di fatto il particolare ambiente italiano non solo recepiva gli ideali di quei gruppi sociali che, pur avendo la base della propria potenza al di fuori della città, politicamente gravitano su essa come milites della chiesa, ma possedeva in proprio una salda tradizione militare che si esprimeva attraverso la partecipazione collettiva alla difesa e talvolta all'offesa. In questo clima di consonanza e di scambi si sviluppa un ideale comune incentrato sul concetto di patria, che al di là della provenienza delle singole componenti si può ben definire cittadino, perché proprio con la città si identifica. Il caso ben documentato di Pisa lo esemplifica con chiarezza. La nota epigrafe del Duomo, riferita anche dagli annali, celebra i cittadini pisani, potenti per valore, tutti ugualmente maggiori, medi e minori, gli squadroni dei cavalieri, le truppe dei fanti, fin dal 1066. In tutte le città c'è dunque una tradizione militare di cui i milites cavalieri rappresentano l'elite e come tale forniscono il modello di vita, ma senza monopolizzare né il prestigio del combattimento a cavallo, né l'accesso al loro gruppo da parte di chi per ricchezza e valore vi aspira. In questa prospettiva si spiega l'attributo che l'Andolfo di San Paolo applica al civis milanese Robacastello, definito appunto civis et equis nominatissimus, pur senza appartenere all'ordo feudale. Non vi è infatti nessun dubbio che tale sia la sua condizione, dal momento che partecipa a una legazione rappresentativa di Totius Cleri et Populu, che si reca presso l'arcivescovo per l'incoronazione di Corrado III nel 1128, formata da un Sudiacono, da un Electus Capitaneus e da un Vavassor Strenus. Da ciò si comprende anche lo sdegno di Ottone di Fresinga per l'addobbamento cavalleresco di individui non appartenenti all'aristocrazia a Milano, cioè proprio là dove una distinzione fra le componenti della società urbana su basi feudali, parebbe manifestarsi come più persistente. L'aspirazione alla dignità cavalleresca, interpretata come culmine della carriera militare, non fa d'altra parte che confermare il potente fascino che lo stile di vita cavalleresco esercita sulla società cittadina, uno stile di vita che si associa con quella cortesia urbanitas che proprio nelle città italiane parebbe aver mosso i suoi primi passi, uscendo dalla tutela della scuola clericale che le è matrice. Significativo appare a questo proposito l'epitaffio del console Pisano Enrico, conservato in cattedrale. Egli per te fu un secondo Catone, un secondo Ettore, un secondo Cicerone, di mente, di mano e di lingua un suol'uomo pari a tre. Sono esattamente le categorie che abbiamo già trovato applicate nel ritratto del milanese Erlenbaldo, qui esplicitate con tre termini, mente, manu, lingua, rigore morale, valore militare e eloquenza, esemplificati con il ricorso a personaggi della classicità, Catone, Ettore e Cicerone. Il radicarsi di tale modello farà sì che nell'arco di pochi decenni la sua totale assunzione nell'etica cittadina renda superfluo il puntuale riferimento al mondo classico. Al cronista pisano Bernardo Maragone, che scrive prima del 1182, dobbiamo infatti un ultimo ritratto in cui quelle caratteristiche cavalleresco cortesi che abbiamo considerato quasi in germe nei retratti di Landolfo Signore appaiono affermate con matura coscienza. Narra dunque Bernardo, nella traduzione in volgare che di questa parte della cronaca ci è stata tramandata, come nel 1179 un certo Cirino, cittadino egregio, venisse ucciso a tradimento per la difesa che aveva assunto d'ordine dei magistrati pisani di un povero cittadino. Piangendo nella scomparsa il cronista ne tesse l'elogio, e il qual Cirino fu uomo mansueto, grato, civile, caratteristiche morali, et di animo lepido, omo urbano e leccato oratore, eloquenza urbanitas. Bello di tutto il corpo, giocondo di faccia, talmente che il volto suo né per gaudio né per dolor si mutava. Prestanza fisica e tolleranza in angustis. Dotto convenientemente in lettere umane e nutrito in l'una et in l'altra legge assai pienamente. Cultura letteraria e giuridica. Et molto diligente a cognoscere le cose antiche e maggiori. Culto del passato municipale. Soldato, è la traduzione di miles cavaliere. Fiore et ornamento della città. Adeo che niente si può dire che in quest'uomo non si vegghi esser stato. Ci troviamo di fronte al compendio assoluto di tutte le virtà cittadine che abbiamo già in precedenza singolarmente incontrato, qui riunite per delineare il modello con cui la città si autorappresenta. E non vi è chi non veda come tale modello aderisca integralmente agli ideali cavalleresco cortesi. Ci sono tutti gli elementi che già connotavano Erlenbaldo e il console Enrico. C'è la cultura letteraria e giuridica. C'è non secondario quel culto delle cose antiche e maggiori che può significare interesse per la classicità ma anche per le memorie patrie che proprio a Pisa la tradizione celebrativa ha posto in parallelo con la romanità fin dal carme del 1087. Sappiamo del resto dal Maioricunus e dal Pergaminus, da Rangerio e dall'abate Uberto quanto spazio la celebrazione dei fasti municipali abbia avuto nell'elaborazione della cultura di ogni singola città. Gran parte delle fonti che stiamo utilizzando ne sono la prova eloquente. Di fronte alla celebrazione della cortesia e della cultura l'aspetto militare in questo ritratto sembra assumere una posizione di secondo piano, d'altra parte giustificata dalle attitudini personali di Cerino che perde la vita a causa delle funzioni che sta esercitando come patrocinatore di uno povero cittadino. Espiace particolarmente in questo caso la perdita dell'originale latino che avrebbe forse chiarito meglio la condizione del tutelato. Forse un popolare pauper, certo non un nobilis, come non nobile appare Cerino stesso, sicché il suo omicidio sembra doversi attribuire a motivi politico-sociali, come la conclusione del capitolo sembra lasciar supporre, ricordando come il medesimo anno molti perennio di coltello. La dimensione cavaleresca della cultura urbana si trova con grande evidenza in un'altra fonte, che seppur scritta nei primissimi anni del 200, racconta vicende avvenute 30 anni prima. Ci riferiamo all'Iber de Obsidione Ancone, unica opera a sfondo storico di buon compagno da signa, insigne professore di retorica a Bologna, che tratta dell'assedio posto ad Ancona nel 1173 dal cancelliere del Barbarossa Cristiano da Bangonza. Sebbene, come rilevato dall'Arnaldi, nell'Iber Boncompagno faccia opera di retorica, libero da preoccupazione di carattere pragmatico, esaltando la memoria del passato come condizione indispensabile all'incivilimento umano, alcune notazioni di costume riferite al mondo cittadino della seconda metà del XII secolo possono, con cautela, essere accolte come testimonianze veridiche di una mentalità diffusa. Degno di nota appare così il personaggio di Guglielmo degli Adelardi, detto Marchesella, nobilis civis di Ferrara, che sappiamo dalle recenti ricerche di Andrea Castagnetti, essi ha disceso dalla famiglia di un conte di Ferrara della prima metà ottoniana, che non potendo dar vita a una dinastia di funzionari per l'esclusiva presenza dei canossa nel territorio, se per insaldare la base di potere in città, conservando la posizione eminente dei capitanei. Proprio a Ferrara, presso Guglielmo, si reca una delegazione di anconitani, mentre la città è ridotta allo stremo delle forze, chiedendogli di reclutare rinforzi in Romagna e in Lombardia. Guglielmo, conquistato dalla causa della Tuendra Libertas, con ogni mezzo si dà attorno per raccogliere combattenti, grazie alla generosa disponibilità dei propri mezzi e al prestigio personale che lo fa definire da buon compagno specchio dei cavalieri di Lombardia e Patria ed Ecus. Trova aiuti nelle città lombarde e presso la contessa Aldruda di Bertinoro. Giunge presso le mura di Alcona, forte di un corpo di spedizione formato da dodici catervas militum di duecento cavalieri preeletti ciascuna e da una moltitudine innumerevole di vulgares milites et populus. Qui Guglielmo e la contessa tengono due discorsi alle truppe. Come è stato rilevato dall'Arnaldi, tutti i discorsi del Liber appartengono al genere perenetico e servono solo a sottolineare, mediante la caratterizzazione stilistica dell'oratorio di alcuni protagonisti, l'esemplarità dell'incontro fra mondi e cultura occidentale e orientale. Ebbene, proprio per il loro non realismo e per l'esemplarità che manifestano, i discorsi di Guglielmo e di Aldruda possono assumere un significato particolare ai fini del nostro assunto. Consideriamo gli argomenti usati da Guglielmo. Riepiloga la vicenda ricordando come si è avvenuto a conoscenza dell'assedio mentre si trovava a Ferrara, dove godeva dei piaceri mondani secondo l'uso della città natale. Narra nella sua raccolta di milites lombardi e romagnoli e dei contatti avuti con la contessa di Bertinoro, da lui definita specchio delle dame. Mostra come l'esercito nemico sia venale e raccogliticcio, benché siano presenti fili nobilium, che tuttavia si sono grandemente denobiliati, unendosi a una banda di ladri, poiché non vi è mai nobilità così consolidata che la compagnia dei malvagi non distrugga. L'exortatio della contessa ai milites punta direttamente sulla loro sensibilità cavalleresca. Rinunciando, ella dichiara, alla bellezza delle parole e alle lucubrazioni filosofiche, tipiche dell'urbana eloquenzia. Possa essere per voi motivo di convincimento la mia esortazione e possa essere di operoso rallegramento la presenza di queste belle fanciulle che sono insieme a me, poiché non solo per la presenza delle dame, ma anche per un loro momentaneo ricordo, i cavalieri sono soliti scontrarsi in tornei in cui combattono battaglie molto correnti per far mostra delle loro capacità. Quanto più dovrete dunque impegnarvi per ottenere la vittoria, voi che in seguito a ciò acquisterete la gratitudine di tutti, ottenendo al tempo stesso una fama perpetua. Prendiamo ora in esame gli aspetti cavallereschi e cortesi che nella narrazione retorica di Boncompagno emergono con grande evidenza. Se Guglielmo, individuato come nobile cittadino di Ferrara, è considerato specchio dei cavalieri lombardi, ciò sta a indicare che nella seconda metà del XII secolo lo sviluppo delle tradizioni militari urbane in direzione di un etos cavalleresco ha raggiunto il suo compimento. In un mondo interamente cittadino come quello lombardo, i costumi cavallereschi non sono dunque assenti, ma fioriscono proprio in città. Non solo, in una società così composita e articolata, non rimangono neppure esclusivo appannaggio dell'elita aristocratico feudale. Accanto ai milites pre-electi, infatti, Guglielmo conduce con sé nella spedizione in liberazione di Ancona anche una multitudine di vulgares milites, che ha reclutato insieme con gli altri nelle città di Lombardia e di Romagna. Tutti questi milites urbani si presume vivono secondo il costume della patria nelle Delicis temporalibus e leggono le imprese di Alessandro Magno e dei Maximorum Principum. Aspirano a una nobiltà morale, fuggendo il consorzio dei malvagi e sono usi a dedicarsi ai ludi bellici, per ostentare il loro valore alle dame da cui desiderano essere ricordati. Cultura cortese e tradizione militare, in una parola, ne caratterizzano lo stile di vita. A proposito di precoci composizioni cittadine di tono cortese, Cinzio Violante ha osservato come al principio del XIII secolo le classi dirigenti costituiscono un ambiente non fortemente differenziato in cui si crea un milio di milites, giudici, notai, grandi mercanti, che per quanto riguarda il costume e la cultura può intendersi come notevolmente omogeneo. Devono essere penetrati negli ambienti anche dei notai e dei giudici che frequentano gli studi e le corti signorili, e dei mercanti, che vivevano accanto ai nobili nelle cariche cittadine, nelle società e nell'esercito comunale, il costume e la cultura cavalleresca e cortese. Le noie in volgare di Gerardo Patecchio, notaio, e di Ugo, studiate dal Violante, mostrano infatti come morale e mentalità cortese, ben diverse dal criterio della morale cristiana, avessero pervaso la società comunale, così come già denunciavano l'elogio di Cerino Pisano e lo stile di vita dei milites delle città lombarde, reclutati da Guglielmo Marchesella, per i quali ben si può dire, come Maurice Keen, che l'approvazione femminile costituisce un nuovo incentivo secolare di grande valore psicologico alle convenzioni laiche del codice della virtù cortese e dell'onore militare. C'è da chiedersi a questo punto quanto abbia influito il contatto diretto con la letteratura provenzale o in generale francese, della cui penetrazione in Italia si portano solitamente esempi dalla fine del XII e l'inizio del XIII secolo, e quanto non fosse già presente nella cultura delle nostre città. Al mondo cittadino appartengono, secondo il Viscardi, tutti gli italiani che nella prima metà del 200 poetarono in Provenzale. Che non si tratti del XII secolo di una meccanica importazione in Italia, di una nuova maniera d'arte, ma che l'adesione spontanea a Romani dall'enorme forza suggestiva che è nel messaggio trobadorico, si può considerare una spiegazione sufficiente? O non è forse più convincente pensare a una consonanza, per così dire originaria, della cultura urbana già preparata da tempo sulle stesse fonti scolastiche che stanno alla base anche del fenomeno francese, con un modello importato che si presenta ora in forma più sistematica e organica di quanto in Italia non fosse stato elaborato. D'altra parte, contatti fra le città italiane e la cultura oltralpina sono attestati ben prima della diffusione del Provenzale in ambito italiano. Già Rangerio accusa l'eloquente anti-vescovo Pietro di avere importato veleni culturali dalla Francia e il reitore Giordano di Clivio insegnava a Narbonne prima di assumere la sede arcivescovile di Milano, per tacere dei rapporti commerciali e di culto al di qui e al di là delle Alpi. E siamo fra undicesimo e dodicesimo secolo, cioè quando compaiono i primi ritratti proto-cavalereschi degli eroi urbani, modellati su una particolare lettura dei classici. Come è stato da tempo rilevato, romanità e miti cavallereschi in questo periodo convivono nei poemi urbani. Una chiara allusione a Carlo Magno compare nel Liber Maiorichinus. Tracce si riscontrano nell'onomastica cittadina e una diffusa iconografia urbana rappresenta eroi romanzeschi, che non lascia dubbi sulla loro notorietà a quell'epoca nell'Italia settentrionale, benché manchino testimonianze relative ai testi sui quali tale conoscenza si fondava. Come a proposito del noto Arco della Peschiera a Modena, lo Stiennon ha sottolineato, riprendendo un'osservazione che fu già della Raina, alla corte di Matilda, secondo Donizzone, i poemi francesi erano ben conosciuti e ciò spiegherebbe la presenza di eroi del ciclo bretone a Modena, quasi come un prodotto della cultura della clientela matildica. Ma non bisogna dimenticare, dal momento che proprio in città è situato il monumento, il peso che Cives e Milites Urbani avevano assunto a Modena, nonostante il controllo esercitato dalla contessa. La relazione relativa alla traslazione dell'Arca di San Geminiano e alla reedificazione della cattedrale è molto eloquente nell'attribuire l'iniziativa ai cittadini e a tutto il popolo di Modena, mentre la contessa non parteciperà che alla consacrazione. A tal proposito, Walter Montorosi ha recentemente parlato di non molto più che l'arvale supremazia della Gran Contessa Matilde. I Cives armati, così come i Milites del Vescovo, non risultano affatto in sua giurisdizione. Il di lei intervento, nel caso particolare, non si connette su alcuna autoritaria competenza, anche solo consultiva, nonché decisioniale. Non solo, ma alla custodia delle reliquie sono preposti sei Milites e dodici Cives. Non è fuori luogo rilevare che le miniature, presumibilmente contemporanee che adornano il codice dell'area Lazio, mostrano tre gruppi di armati, sei Cives, sei Milites, sei Cives, interamente rivestiti di cotta di maglia, armati di lancia e di spada, con la sola differenza che i Milites portano in testa un elmo a forma di tronco di cono rovesciato e una sopravveste di stoffa. Una ventina d'anni dopo, l'episodio qui riprodotto, a Modena viene innalzato l'arco della peschiera, espressione di una cultura non certo della clientela della contessa, ma piuttosto dell'intero gruppo dirigente cittadino, che attitudini e costume militari aveva già dimostrato in occasione della custodia delle reliquie. Anche per quanto riguarda l'adesione italiana alla lingua e alla cultura provenzale, non sarò poi di secondaria riportanza a rilevare che era detto Lombards, il misterioso Cossetzen, che compare nel Sierventese di Pietro d'Alvernia nel 1170, ed è indicato come colui che poetando, in una lingua non sua e non perfettamente posseduta, Claurasos Vains Coarz. L'ipotesi avanzata dalla Raina, che si tratti di un cantore civile, il quale ai tempi delle lotte comunali contro il Barbarossa sferzava i suoi compatrioti per incitarli contro il nemico, è giudicata tanto più suggestiva dal Roncaglia, in quanto il primo componimento poetico d'autore italiano in lingua provenzale è per l'appunto un animoso Sierventese civile contro i tedeschi, composto nell'età di Enrico VI da Peer della Carvana, probabilmente bolognese. Si tratta comunque di un verseggiatore cortese, espresso dal mondo della cultura cittadina, che a quello stesso mondo si rivolgeva, esortandolo alla difesa del suo principale ideale, la libertà, secondo una tradizione ininterrotta che vige da almeno un secolo. Da Pisa a Modena, da Milano a Bologna, in conclusione, il mondo delle città pare dunque elaborare un sistema di valori laici con un processo al tempo stesso sincretistico e omogeneo, rivalutando i contenuti etico-patriottici del classicismo, sviluppandoli in parallelo in sintonia con quanto accadeva fuori d'Italia, forte di una tradizione culturale militare comune all'intero gruppo dirigente. Sul terreno fertile rappresentato da un ideale di vita cittadina all'insegna del morum urbanitas, già pienamente matura al tempo di ottonne di fresinga, il successivo impatto di una cultura tecnicamente cortese, di importazione, non farà altro che provocare una pronta e spontanea convergenza su modelli ormai di vasta diffusione.